Quanto grandi possiamo stampare le nostre fotografie? Chi di noi non si è già posto questa domanda? Tutti quanti scattiamo decine, centinaia, migliaia di fotografie e magari alcune di queste, le più belle, quelle che ci piacciono di più, le vogliamo stampare, ma non sappiamo mai esattamente quanto grandi le possiamo stampare, facciamo un po' di confusione. In questo video cercherò di spiegarti come fare per capire fino a quanto grande puoi stampare le tue immagini e per farlo dobbiamo avere chiari alcuni concetti, tra cui la dimensione di un'immagine, la risoluzione e fare chiarezza anche su alcune sigle che si sentono molto spesso, ovvero DPI e PPI. Ora, senza perdere altro tempo, iniziamo questo video. È bene fare subito una precisazione. Gli argomenti di cui parleremo oggi si riferiscono alla fotografia digitale, quindi non possono essere trasporti altrettanto bene anche sulla fotografia analogica. Per iniziare parliamo delle nostre immagini digitali. Queste sono composte da tantissimi pixel. Quanti? Milioni e milioni. Questo dipende unicamente dalla nostra macchina fotografica. Le macchine fotografiche digitali nel 2023 in media hanno un intorno di 24 milioni di pixel. Ad esempio la mia Fujifilm X-T2 ne ha 24. Macchine fotografiche più nuove o specialistiche tendono ad avere anche maggior numero di pixel. Ad esempio la nuova Fujifilm X-T5 ne ha addirittura 40. Oppure le Sony Alpha R di solito arrivano a oltre 60 milioni di pixel o addirittura le Fujifilm a medio formato arrivano fino a 100 milioni di pixel. Esistono poi macchine più datate che hanno meno megapixel o addirittura anche alcuni smartphone come l'iPhone che ne ha soltanto 12 milioni. I vantaggi e gli svantaggi di avere più o meno pixel non saranno argomento di questo video ma se sei curioso di saperne di più dai un'occhiata al video qua sopra che te lo lascerò scritto anche in descrizione. Quindi le nostre macchine fotografiche ci producono delle immagini digitali che hanno un determinato numero di pixel. Noi fotografi possiamo scegliere di comprare una macchina oppure un'altra e queste avranno un determinato numero di pixel. È sicuramente una caratteristica importante che dobbiamo tenere a mente anche in base alle nostre esigenze. Ma una volta che abbiamo la macchina fotografica in mano il numero di pixel è dato e su questo possiamo intervenire molto poco. In questo video cercheremo di portare avanti l'esempio di una tipica macchina da 24 megapixel. Questi sono disposti secondo una griglia rettangolare di una proporzione 3 di lunghezza e 2 di altezza. Quindi dobbiamo andare a distribuire i nostri 24 milioni di pixel 6.000 sul lato lungo e 4.000 sul lato corto. La loro moltiplicazione 6.000 per 4.000 ci dà appunto 24 milioni, 24 megapixel. Tutte le fotografie scattate da questa macchina fotografica avranno 24 milioni di pixel che serviranno per descrivere la scena che abbiamo fotografato. Questo è proprio il primo concetto di cui parliamo oggi, ovvero dimensione d'immagine. La dimensione di un'immagine digitale è data dal numero di pixel che la compongono. Un'immagine per essere più grande deve avere più pixel. Un'immagine più piccola per contro avrà un numero inferiore di pixel. Questa dimensione in pixel di un'immagine digitale non è ancora stata trasposta in nessun modo su carta o su un supporto stampato, quindi è semplicemente la dimensione di un'immagine digitale. Adesso è il momento di parlare di un altro concetto importantissimo e di una sigla che si sente spesso nominare, ovvero PPI, che sta per Pixels Per Inch, ovvero un numero di pixel per ogni pollice lineare. Perché si utilizzano i pollici? Perché ovviamente il mondo della fotografia e della stampa è stato veramente tanto influenzato dal mondo anglosassone, quindi si utilizza il sistema imperiale. Ma questo non rappresenta un problema per tutte noi persone abituate al sistema metrico. Questa sigla, PPI, è veramente uno standard e viene utilizzato da tutti e non dobbiamo necessariamente andare a fare noi delle conversioni da pixel per pollice a pixel per centimetro. Però la maggior parte dei software di post-produzione ci permette sì di utilizzare questa sigla che è molto importante, ma anche avere dei riscontri in sistema metrico che è veramente molto più facile per noi da capire. Che cosa significa questa sigla, PPI? Che cosa ci sta a significare per noi fotografi? Cosa ci indica questa misura? Ci indica la risoluzione di un file digitale, ovvero quanti di quei milioni e milioni di pixel che compongono le nostre fotografie digitali devono essere posti in un pollice. Non è veramente importante sapere quant'è un pollice, in generale misura 2,54 cm, ma non è particolarmente importante ai fini di comprendere il concetto. Quanti più pixel andremo a mettere in un pollice, tanto maggiore sarà la risoluzione di una fotografia. E l'effetto qual è? Semplicemente riusciremo a descrivere quel pollice di fotografia in maniera molto più precisa, perché avremo tanti pixel che vanno a comporlo. Riusciremo a descrivere meglio le forme, i contorni, le sfumature di luce e le sfumature di colore. Per contro, se abbiamo una bassa risoluzione, avremo pochi pixel per ogni pollice di fotografia. E questo ovviamente porterà delle approssimazioni. Riusciremo a avere le cose descritte in maniera meno precisa, sia in termini di forme, dettagli, sia in termini di colore e luminosità. E' un po' l'effetto Pac-Man. Quando Pac-Man è stato creato, non era certo una sfera perfetta, ma era una sfera approssimata e seghettata. Questo perché era composto da pochi pixel, aveva una risoluzione veramente bassa. Col passare degli anni, la risoluzione è aumentata, adesso Pac-Man lo vediamo esattamente come una sfera tonda. Questo è l'effetto di avere più pixel che descrivono una determinata cosa. Ora che abbiamo capito che cos'è la risoluzione di un'immagine, ovvero quanti pixel per pollice riusciamo a mettere nella nostra fotografia, ci possiamo domandare qual è un buon valore di pixel per pollice che dobbiamo cercare di utilizzare? Teniamo sempre a mente che la nostra fotografia ha una dimensione d'immagine prestabilita dalla macchina fotografica. Quindi se la nostra macchina fotografica scatta fotografia 24 megapixel, noi abbiamo 24 milioni di pixel da distribuire in tanti pollici. In generale una misura che viene utilizzata come standard di settore per stampe di medio-piccole dimensioni ed è considerata di qualità eccellente, è quella di 300 pixel per pollice. Quindi se ad esempio prendiamo la nostra fotografia da 24 megapixel, il cui lato lungo è composto da 6.000 pixel, se andiamo a fare questa divisione, quindi 6.000 pixel diviso 300 pixel per pollice, otteniamo una misura di 20 pollici. Questo significa che prendendo tutti i nostri 24 milioni di pixel e distribuendoli 300, 300, 300 ogni pollice, arriveremo a comporre una fotografia di 20 pollici, che più o meno rappresentano 50 centimetri. Questo significa che agilmente potremo stampare la nostra fotografia con un lato lungo di 50 centimetri, mantenendo una risoluzione eccellente di 300 pixel per pollice. Ho detto prima che è considerato lo standard per stampe di piccole e di medie dimensioni, quindi tutte le stampe piccoline, fino al formato A4, o addirittura al 30x45 che puoi trovare alle mie spalle. Per tutte queste stampe avere una risoluzione di 300 pixel per pollice è davvero ottimale. Ma che cosa succede se vogliamo stampare qualcosa di più grande, ad esempio un 40x60, oppure le fotografie che avete visto in altri miei video che sono addirittura 60x90? Ecco che improvvisamente i nostri 24 milioni di pixel non sono più sufficienti per andare a comporre di 300 in 300 per ogni pollice una fotografia lunga 60 centimetri, 90 centimetri di lato lungo. Non abbiamo abbastanza pixel. A questo punto la soluzione numero uno sarebbe quella di prendere una macchina fotografica che ha più pixel e quindi produce immagini di una dimensione maggiore, ma questo ovviamente non è sempre possibile, men che meno, ex post. L'altra soluzione, che è quella che viene adoperata costantemente e non è affatto un ripiego, è quella di andare a mettere per ogni pollice meno pixel, ovvero abbassare la risoluzione della propria fotografia. Il ridurre la risoluzione, quindi mettere meno pixel per ogni pollice, quindi descrivere ogni pollice con meno informazioni, non significa necessariamente andare a ridurre la qualità dell'immagine. Questo va sempre rapportato al tipo di stampa che si sta facendo, alla sua dimensione e al supporto che stiamo utilizzando. Stampe di piccole dimensioni come quelle di cui abbiamo parlato prima vengono solitamente osservate e ammirate da una distanza abbastanza ridotta. E questo implica la necessità di descrivere ogni singolo pollice di fotografia con molto dettaglio, altrimenti riusciremmo a notare i singoli pixel, riusciremmo a notare la non perfezione dell'immagine. Quando invece stampiamo fotografie di dimensioni maggiori, da 40x60 in su, fino ad arrivare ai cartelloni pubblicitari o addirittura le immagini che vengono stampate e messe nei punteggi dei palazzi, ecco che queste fotografie non vengono certo osservate da 50 cm o a un metro, vengono osservate da distanze molto maggiori. Le mie fotografie che ho là, 60x90, le osservo sempre almeno a un paio di metri di distanza. I cartelloni pubblicitari decine di metri, i palazzi anche centinaia di metri. Ecco che possiamo pensare, ma noi a queste distanze riusciamo davvero a capire il dettaglio presente in un pollice in due centimetri e mezzo di fotografia? Ovviamente no. Dal momento che non riusciamo ad apprezzare bene la dimensione di un pollice, la necessità di descriverla con tantissima informazione viene meno. E quindi possiamo tranquillamente permetterci di descriverci un pollice di fotografia con molti meno pixel e quindi abbassare la risoluzione. Questo abbassare la risoluzione fa comunque sì che la fotografia sia di qualità eccellente e non si notte assolutamente nessun perdita di qualità o di dettaglio. Ovviamente quanto si può abbassare la risoluzione dipende dalla dimensione appunto della stampa. Se vuoi sapere esattamente i valori ottimali ti consiglio di parlare col tuo laboratorio di stampa di fiducia perché saprà darti una misura basata sulla sua esperienza che chi più di lui è adatto a darti questa risposta. In generale più la stampa aumenta più la risoluzione può calare. Per cartelloni pubblicitari o addirittura le fotografie sui palazzi non mi stupirei che avessero 30, 40, 50 massimo pixel per pollice ma probabilmente anche meno perché tanto a centinaia di metri di distanza se in uno spazio così ci sono 2, 3, 10, 50 pixel non riusciamo veramente ad accorgercene. Probabilmente basterebbero veramente anche una decina di pixel. Quindi la nostra fotografia da 24 milioni di pixel se ne andiamo a distribuire meno per ogni pollice può raggiungere una dimensione molto maggiore. Ho detto prima che dipende dalla dimensione della stampa ma anche dal tipo di supporto. Se utilizziamo ad esempio delle carte assolutamente senza trama quindi lisce la necessità di avere più pixel per pollice è cruciale perché riusciamo veramente ad apprezzare il dettaglio nelle nostre stampe. Se invece stampiamo su carte molto ruvide con una trama importante o addirittura sulla tela è veramente inutile andare a descrivere un singolo pollice con tantissime informazioni perché queste verrebbero dilavate e verrebbero nascoste dalla trama del supporto. Quindi in quei casi quando utilizziamo determinati tipi di supporto su cui stampare possiamo tranquillamente permetterci di avere una risoluzione inferiore della fotografia perché tanto non avremo beneficio di avere una risoluzione maggiore. Avere delle risoluzioni maggiori di questi standard di settore quindi ad esempio per un'immagine 30x45 utilizzare un valore di ppi maggiore di 300 non porta uno in grande beneficio perché già con 300 pixel per pollice nessuno di noi è davvero in grado di dire la differenza tra un pixel e l'altro quindi metterne 300, metterne 500, metterne 600 veramente non fa molta differenza. È logico che se andiamo a guardare la fotografia a pochi centimetri di distanza con la lente di ingrandimento ecco che potremmo notare delle differenze ma è uno scenario completamente irrealistico e quindi non viene preso assolutamente in considerazione. Con questo abbiamo finalmente legato il concetto di dimensione di un'immagine digitale quindi il numero di pixel che contiene a una dimensione di stampa attraverso il concetto di risoluzione ovvero quanti pixel per pollice vengono introdotti. Adesso vorrei mostrarti la schermata di un software in particolare Photoshop che riguarda proprio la dimensione di un'immagine per farti vedere come le cose di cui abbiamo parlato adesso trovano effettivamente riscontro nell'utilizzo di tutti i giorni. Andando nel menu immagine in altro e poi dimensione immagine ecco che ci appare una piccola finestrella che riepida tutta una serie di informazioni. Per fare questo esempio ho preso una fotografia autunnale visto che siamo in tema delle vigne colorate nelle colline di Castelvetro di Modena e puoi vedere subito in questa schermata come nella parte alta sono presenti le informazioni sulla dimensione dell'immagine. Questa fotografia è una fotografia da 24 megapixel 6.000 pixel lato lungo per 4.000 pixel lato corto. Viene anche mostrata la dimensione in megabyte che è appunto lo spazio sul computer che occupa questa immagine. Quindi questa fotografia è composta da 24 milioni di pixel. Nella parte subito sotto possiamo trovare una serie di misure in centimetri e anche i pixel per pollice quindi la risoluzione. Nel menu a tendina è possibile cambiare l'unità di misura e lavorare ad esempio in pollici ed è possibile anche cambiare il valore della risoluzione da pixel per pollice a pixel per centimetro. Consiglio caldamente di utilizzare le misure in centimetri perché noi andremo a produrre stampe in centimetri a meno che tu non viva in un paese anglosassone dove ti serve il sistema imperiale. Mentre ti consiglio caldamente di lasciare il valore di risoluzione in pixel per pollice perché è appunto il valore standard utilizzato da tutti. Se lo vai a rapportare in pixel per centimetro non sapresti più comunicare con la stessa lingua con le altre persone quindi è veramente sconsigliato. Potete vedere da questa schermata che se io imposto un valore di risoluzione di 300 pixel per pollice la mia fotografia assume determinate misure massime in centimetri in particolar modo ai famosi 50 centimetri di lato lungo di cui vi parlavo prima. Che succede se io voglio stampare questa fotografia ad esempio a 60 centimetri o a 90? Vado a cambiare la dimensione del lato lungo metto 60 centimetri oppure 90 centimetri e noto immediatamente come il valore della risoluzione subito sotto cambia ed è inferiore ai famosi 300 pixel per pollice. In particolar modo passa a 254 pixel per pollice quando voglio stampare una fotografia di lato lungo di 60 centimetri e addirittura scende all'intorno del 170 quando voglio stampare una fotografia di 90 centimetri. Avrai sicuramente notato che la dimensione dell'immagine i 24 milioni di pixel i 6.000 x 4.000 pixel non sono cambiati sono sempre loro che vengono distribuiti in ogni pollice in maniera differente. Mi raccomando come ho detto prima quando vuoi stampare una fotografia a specie di grandi dimensioni preparare il file da mandare allo stampatore dagli un colpo di telefono scrivigli una mail per sapere se il valore di TPI che tu puoi produrre è sufficiente per quella fotografia. Se non dovesse essere sufficiente perché è davvero troppo poco per avere un'ottima qualità sarà lo stampatore ad avvisarti e in quel caso bisogna adottare una strategia che è quella del ricampionamento. Sempre nella schermata di Photoshop la puoi trovare sotto con il pulsantino da selezionare chiamato ricampione. Il ricampionamento utilizza una serie di algoritmi diversi per ogni software che altro non fanno che creare nuovi pixel ex novo pixel che non esistono in maniera coerente e adeguata con la fotografia in modo tale da avere una dimensione dell'immagine maggiore. Per esempio supponiamo di volere stampare questa fotografia di 60 cm quindi la nostra risoluzione calerebbe intorno di 254 pixel per pollice. Supponiamo che il nostro stampatore di fiducia si dica assolutamente che devi produrmi un file di 300 pixel per pollice. A questo punto possiamo andare a selezionare la opzione di ricampionamento e a questo punto la risoluzione non sarà più una funzione delle dimensioni che abbiamo messo ed è la dimensione dell'immagine. Bensì sarà proprio le dimensioni che scegliamo e la risoluzione a determinare la dimensione dell'immagine quindi la dimensione dell'immagine diventa variabile. Nell'esempio che sto portando vado a mantenere le dimensioni di 60 cm di lato lungo e vado a cambiare il valore di risoluzione e metto 300. Come vedi te lo fa fare non dà nessun problema ma è cambiata questa volta la dimensione dell'immagine sopra. Non abbiamo più un'immagine da 24 megapixel ma è aumentata siamo all'intorno di 28 megapixel. Tutti quei 4 milioni di pixel che prima non avevamo ed ora abbiamo sono stati inventati completamente dal software Photoshop. Esistono poi tutta una serie di opzioni che possono dare un suggerimento all'algoritmo su come creare questi pixel nuovi però in generale tutto è demandato a lui e noi abbiamo veramente poco controllo. Il ricampionamento di un'immagine tipicamente abbassa la qualità complessiva proprio perché questi pixel inventati per quanto inventati coerentemente sono inventati di sana pianta quindi i dettagli probabilmente saranno meno incisi le sfumature cromatiche luminose saranno meno precise. Quindi non consiglio personalmente di andare a ricampionare le nostre immagini di molto finché dobbiamo cambiare la risoluzione di poche decine di punti non rappresenta davvero un problema e il risultato sarà comunque eccellente. Ma se dovessimo ad esempio portare la fotografia di 90x60 cm e passare da una risoluzione di 170 a una risoluzione di 300 pixel per pollice ecco che qui dovremmo inventare veramente metafotografia e non consiglio di farlo assolutamente tramite Photoshop. Esistono tutta una serie di software dedicati al ricampionamento delle immagini che fanno solo quello e hanno sviluppato il loro codice proprio per ricampionare nel migliore dei modi. Non te li sto a nominare in questo video perché sono tutti software a pagamento e si usano relativamente poco quindi non ne vale veramente la pena acquistarle. Il tuo stampatore di fiducia o il tuo laboratorio di stampa di fiducia sicuramente ne avrà uno preferito e ti potrà aiutare nel ricampionare un'immagine nel caso ce ne sia bisogno. Il processo di ricampionamento può avvenire anche al contrario con un processo chiamato downsampling quindi una sorta di sottocampionamento. Questo viene utilizzato quando vogliamo ridurre la dimensione delle nostre immagini. Ad esempio l'utilizzo più comune in assoluto è la fotografia sui social o sui siti web. Non potremmo mai dare una fotografia con 24 milioni di pixel e 50 megabyte per una pagina internet. Sarebbe troppo lenta a caricare l'esperienza utente sarebbe terribile. Dobbiamo necessariamente andare a ridurre l'immagine di una fotografia e utilizzare molti meno pixel. Di solito bastano veramente pochi pixel siamo all'intorno degli 1 o 2 megapixel massimo. Ovviamente una fotografia che viene descritta da un minor numero di pixel sarà molto meno precisa meno incisa meno dettagliata e sarà un pochino più approssimata. Ma va più che bene ad esempio per l'uso di una pagina web. Prima di parlare dell'ultima sigla vorrei fare un'ulteriore specifica sempre sulla risoluzione sui PPI. Tutti noi siamo circondati da schermi computer cellulari oppure televisioni ed anche questi dispositivi sono formati da pixel. Quanti pixel nello specifico è stabilito dal produttore è un parametro che ci interessa quando li andiamo ad acquistare ma sul quale abbiamo veramente poco controllo. Ed è sempre il produttore che va anche a stabilire la risoluzione di questi strumenti ovvero quanti pixel ci sono all'interno di ogni pollice. Non lo decidiamo noi lo decide il produttore. Questo significa che gli schermi tutti i nostri dispositivi hanno una loro risoluzione nativa che non ha niente a che vedere con la risoluzione di un nostro file digitale. Se ad esempio abbiamo uno schermo di un nuovo iPhone che ha più di 400 pixel per pollice oppure lo schermo del mio MacBook Air che ne ha 250 oppure la mia televisione che ne ha 100 questi sono tutti i valori di risoluzioni su quali non ho controllo e tutte le immagini che vengono mostrate sulla mia televisione ad esempio avranno 100 pixel che descrivono un singolo pollice di televisione. Questa risoluzione non c'entra con l'immagine che andiamo a produrre noi con la risoluzione dell'immagine che produciamo noi. Noi potremmo andare a preparare un file con 300 pixel per pollice di risoluzione e un altro file con un solo pixel per pollice di risoluzione li mostriamo entrambi sul medesimo schermo del cellulare o la televisione non vedremo nessuna differenza perché li vedremo comunque descritti in ogni pollice con la risoluzione della mia tv 100 pixel per pollice. Questo non è particolarmente importante per l'argomento di fotografia e stampa ma è semplicemente per fare un po' di chiarezza come la risoluzione dei dispositivi elettronici è fissa determinata dal produttore e non c'entra niente con la risoluzione dei nostri file che andremo a stampare. Infine veniamo all'ultima sigla di oggi che è una di quelle che si sente nominare più in assoluto ovvero DPI che sta per dots per inch ovvero punti di inchiostro per ogni pollice non pixel punti di inchiostro questa sigla indica la risoluzione di stampa ed è una proprietà intrinseca di una macchina stampante non c'entra niente con la nostra fotografia digitale con le nostre macchine fotografiche con i nostri file digitali DPI non è PPI ogni stampante va a spruzzare sulla carta per ogni pollice un determinato numero di getti di inchiostro il numero lo decide il produttore e sono veramente dei numeri molto elevati 300 500 700 1200 ovviamente dipende dal tipo di stampante noi non li possiamo scegliere solitamente e l'unica cosa che se siamo fortunati possiamo fare è scegliere il livello qualitativo della stampa quindi ad esempio bassa qualità media qualità o alta qualità quando scegliamo queste opzioni andiamo automaticamente a variare tutta una serie di parametri di cui non sappiamo esattamente quali ma fra questi sicuramente ci sarà anche il numero di getti di inchiostro che vengono spruzzati sulla carta questo se la stampante permette di variarli anche in questo caso un maggior numero di getti di inchiostro per pollice indica che la stampante riuscirà a descrivere un pollice della nostra fotografia in maniera più precisa utilizzando tutta una serie di piccoli puntini che possono variare nel colore nella luminosità gli uni dagli altri il lavoro che fa il fotografo è indicare come un centimetro di fotografia deve essere descritto da un determinato numero di pixel la risoluzione in ppi dopodiché la stampante ha il compito di andare a disegnare su carta su un supporto un pollice utilizzando tutta una serie di punti di inchiostro ma non c'è corrispondenza uno a uno noi potremmo tranquillamente andare a creare un file con un solo pixel per ogni pollice e la stampante andrà a descrivere questo pollice disegnando il nostro pixel utilizzando il suo numero di oggetti di inchiostro che può essere 1500 o 300 e via andare quindi non c'è correlazione diretta fra il numero di pixel per pollice che andiamo a indicare noi in una fotografia e come questo la stampante lo descrive questo è uno dei punti in cui vi è maggior confusione e questi termini vengono spesso equiparati o purtroppo capita anche che molti laboratori di stampa ti indichino di produrre un file a un determinato numero di DPI questo è assolutamente scorretto ma non genera chissà quale problema in futuro potrai sentirti libero di correggerlo e anche mostrargli questo video se avrà curiosità la risoluzione del file che deve concernere a te come fotografo è solo quella di pixel per pollice tu dovrai produrre un file che sia descritto con un numero di pixel adeguato per ogni pollice affinché stampato su una determinata dimensione e supporto risulti eccellente quindi non farti trarre l'inganno dalla richiesta di un file a 300 DPI perché in realtà l'intenzione è quella di produrre un file a 300 PPI con questo abbiamo parlato degli argomenti di oggi vorrei fare un piccolo riepilogo per riassumere tutto quanto la dimensione di un'immagine è data dal numero di pixel che la nostra fotografia contiene ed è determinata dalla nostra macchina fotografica noi fotografi quando andiamo a lavorare il file e a prepararlo per la stampa dobbiamo deciderne la risoluzione ovvero quanti pixel per pollice devono descrivere la nostra immagine sigla chiamata anche PPI un valore standard di PPI per stampe di medie dimensioni eccellenti è quello di 300 pixel per pollice per dimensioni di stampa superiori oppure per dei supporti particolari possiamo tranquillamente permetterci di ridurre il numero di PPI e possiamo chiedere consiglio al nostro stampatore se la risoluzione che riusciamo a produrre per una data dimensione di stampa non fosse sufficiente a garantirci risultati eccellenti possiamo procedere al ricampionamento attraverso Photoshop oppure dei software dedicati oppure possiamo chiedere aiuto al nostro laboratorio di stampa che utilizzerà dei software specifici che lavorano molto meglio teniamo sempre a mente che la risoluzione invece degli schermi non ha niente a che vedere con la risoluzione nei nostri file essa è fissa e dipende dal produttore dei nostri schermi infine abbiamo parlato di DPI come puntini di inchiostro che la stampante andrà a stampare per ogni pollice e è una proprietà intrinseca della stampante ne indica la sua qualità e non ha nulla a che vedere con la nostra risoluzione delle immagini siamo arrivati al punto in cui possiamo rispondere alla domanda iniziale ovvero quanto grandi possiamo stampare le nostre foto? questo dipenderà dalla dimensione dell'immagine e dalla risoluzione della fotografia necessaria per ottenere delle stampe di una determinata dimensione eccellenti quindi a un qualcosa di variabile la risposta non è sempre univoca bisognerà sempre sapere il nostro scopo ovvero quanto grande vorremmo stampare la fotografia vedere se la nostra dimensione dell'immagine è sufficiente per avere una risoluzione ottimale spero davvero di aver fatto un po' di chiarezza su tutte queste cifre e su qual è il processo che ogni fotografo deve seguire per passare dal file digitale alla stampa se ti è rimasta qualche curiosità come al solito non esitare a contattarmi scrivimi un commento qua sotto mandami una mail e cercherò di rispiegarti al meglio il concetto ricordati sempre anche che tengo la rubrica Q&A domande e risposte in cui rispondo con video dedicati ad alcune delle domande che mi vengono rivolte quindi non essere timido e scrivimi pure le tue domande se il video ti è piaciuto condividilo con altre persone a cui pensi possa interessare l'argomento e anche col tuo laboratorio di stampa perché no? mi raccomando se non l'hai già fatto considera l'idea di iscriverti al canale di attivare le notifiche così sarai sempre aggiornato sulle prossime uscite e perché no? lasciami anche un like nel frattempo non mi resta che augurarti buoni esperimenti con le tue foto inizia a capire effettivamente come manovrare i pixel a disposizione e la risoluzione e fai tanti esperimenti ci vediamo nel prossimo video ciao